Allora, ci siamo, anche in Italia abbiamo per la prima volta una donna premier, è Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Ovviamente è un risultato abbastanza scontato visto il risultato elettorale, in questo weekend giurerà, ci sarà passaggio alla campanella, ci sarà il primo Consiglio dei Ministri, probabilmente la prossima settimana, tra martedì e giovedì, dovrebbe avere la fiducia dei due rami del Parlamento. Un governo che ha mostrato una Meloni estremamente decisionista, una Meloni che non si è lasciata intimorire dai due leader Salvini e Berlusconi o Tajani come portavoce, ma è andata dritto per la sua strada non cedendo a compromessi, almeno questa è l'immagine, perché poi ovviamente ci possono essere giochi sotterranei, specialmente a parte di Forza Italia. Salvini che aveva detto che non sarebbe stato nel governo perché voleva rilanciare la Lega, è rimasto all'interno del governo e questa è una grande garanzia per la Meloni per non avere attacchi esterni. Mentre Forza Italia ha sempre la solita problematica, il portavoce è Tajani, ma lì del vero è Berlusconi, quindi Berlusconi non è dentro il governo e si è sentito dire moltissimi no. Un governo di destra, chiaramente di destra, spostato a destra che tira fuori anche un vecchio linguaggio ormai superato nel nostro paese. Esempio, il Ministero della pubblica istruzione e del merito sono due elementi che uniti non hanno alcun senso. La scuola non deve essere la scuola dei meritevoli, ma la scuola è la scuola di tutti. Quindi questa idea del merito è un'idea selettiva che riporta quasi a un concetto di riforma gentile, di divisione aurei, argentei e bronzei. L'altro aspetto sulle edizioni è il Ministero della disabilità. Il Ministero della disabilità richiama un'attenzione pietistica, essenzialistica nei confronti dei disabili che invece negli ultimi anni, con lo sport, con la cultura, col teatro, hanno fatto cose meravigliose e quindi questo Ministero deve avere una dimensione più culturale ed essere legato a un Ministero sociale, non a un Ministero ad hoc, per categorie che vengono considerate svantaggiate in un'ottica estremamente demagogica. La Melone ha messo anche uomini per l'importante, Adolfo Urso ha le imprese Made in Italy, Crosetto, Ministro della difesa che ha fondato insieme a lei Fratelli d'Italia, Carlo Nordio alla giustizia può essere considerato un tecnico ma da molto tempo è vicino a Fratelli d'Italia, il fatto di scegliere Carlo Nordio il luogo di un esponente di Forza Italia, il Ministero di Grazia e Giustizia, ha un braccio di ferro che la Meloni sembra aver vinto con Silvio Berlusconi. Non ci sono tantissimi tecnici perché tutti i tecnici sono già in qualche modo dentro determinate dinamiche politiche, probabilmente a parte Schillaci alla salute perché non si è mai interessato veramente di politica, oppure Abodi allo sport che è il presidente del credito sportivo, ovvero Abodi è quello che in qualche modo gestisce questa banca pubblica legata allo sport. Poi abbiamo dei ministeri piuttosto strani, il Ministero del Mare e del Sud a Musumeci, anche Forza Italia ha messo dei pezzi da 90, Elisabetta Casellate ex presidente del Senato, Tajani ministro degli esteri, poi abbiamo dentro il governo anche lui come vice premier insieme a Tajani Matteo Salvini, che è quindi il fatto appunto come dicevo prima che la Lega è entrata completamente dentro questo governo e il fatto poi di collegare con Abodi la gioventù allo sport è un altro elemento che non ha una dimensione progressista sicuramente perché i giovani non hanno bisogno di sport, tutto è collegato ai giovani, potrebbe essere collegata la salute, l'interno eccetera, anche Piante Dosi che è un ministro dell'interno tecnico, che è stato capo gabinetto di Matteo Salvini, Gennaro Sangiuliano ex direttore del Tg2, è vero che è un tecnico alla cultura, ma in realtà è molto 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 legato anche lui alla destra e a Fratelli d'Italia, quindi sicuramente un governo di destra, un governo che non ha fatto richiami al fascismo, ma neppure all'antifascismo, ricordiamoci che la nostra Costituzione non è una Costituzione afascista, ma è una Costituzione antifascista, quindi noi non siamo non fascisti, noi dobbiamo essere antifascisti e questo elemento dell'antifascismo ovviamente all'interno di questo governo non c'è. La Meloni ha mostrato una grande capacità politica, sembra avere un'idea chiara di paese, che poi molti non condividono, io non condivido, ed è stata molto veloce, questo vuol dire che ha lavorato per essere pronta al momento della chiamata e questa è una cosa piuttosto nuova nel nostro paese, dove in genere ci sono sempre dei meccanismi di alta mediazione per arrivare a un equilibrio di governo. Quindi sono state scelte il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, la lista dei ministri, ormai il quadro è pronto e quindi l'Italia si prepara a questa legislatura.